In ogni ambito, mediamente, hanno un salario più basso rispetto ai lavoratori autoctoni. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che esattamente la regola di Marx viene rispettata a pieno, cioè il migrante viene pagato meno e quindi viene sfruttato maggiormente rispetto al lavoratore autoctono e di più esercita in tal maniera una concorrenza a ribasso. Detto banalmente, se il lavoratore di Fiat Mirafiori a Torino percepisce, ex ipotesi, 10 euro all'ora, se il capitale può disporre, Marx diceva, dei lavoratori irlandesi, noi diciamo dei lavoratori che provengono da altre parti del mondo, pagandoli 2 euro all'ora, è chiaro che il capitale giubila, per usare un'immagine un po' horror che usava Marx, il capitale giubila come il vampiro al cospetto del sangue, giubila all'arrivo di braccia a basso costo come il vampiro giubila quando vede il sangue. Ecco, e in effetti questo ci permette di capire al meglio forse queste pratiche di cui stiamo discutendo. E dato che finora ci siamo soffermati su sociologi, filosofi e in qualche modo autori che possiamo definire delle umane littere, voglio dare anche un piccolo contributo letterario. Io vi consiglio il romanzo per eccellenza per capire l'immigrazione. Ecco, se mi chiedeste quale romanzo possiamo leggere per farci un'idea, qual è il romanzo migliore dedicato all'immigrazione, io vi consiglio di leggere Furore di Steinbeck. Non so se avete mai letto questo romanzo, qualcuno di voi l'ha letto? Furore di Steinbeck. Leggetelo, è un romanzo molto bello, un classico della letteratura occidentale, un bellissimo romanzo che merita di essere letto e di cui subito diremo qualcosa. Tra l'altro ho fatto riferimenti un poco astratti magari, però diamo anche qualche dato giusto per suffragare quello che stiamo dicendo. Il Fondo Monetario Internazionale, quello che viene sempre abbreviato con la dicitura FMI, Fondo Monetario Internazionale, ha fatto in questi anni, come sapete, ripetute deroghe sul salario minimo garantito a norma di legge per favorire l'integrazione dei migranti sul mondo del lavoro. Cosa vuol dire? Vuol dire che se finora l'operaio tedesco, supponiamo, non poteva percepire meno di, dico una cifra a caso, 15 euro all'ora, dato che stanno arrivando molti lavoratori potenziali grazie ai processi di migrazione, per inserirli nel mondo del lavoro dobbiamo togliere questa soglia minima di salario in modo che possano entrare nel mondo del lavoro. Ma voi avete già capito cosa significa questo. Vuol dire che si abbasserà il salario per tutti, per rimanere giusto nell'area tedesca. Nel 2015, come sapete, ci fu una grande ondata, che interessò soprattutto la Germania, di migranti che provenivano dalla Siria. Ecco, è un caso da manuale questo, perché cos'era accaduto in Siria? La Siria era stata destabilizzata dall'Occidente, era stata destabilizzata dall'Occidente e probabilmente, se non ci fosse stato il contrappeso della Russia, la Siria avrebbe fatto la fine fatta dall'Iraq o dalla Libia, ma in quel caso Washington si trovò a fare il braccio di ferro con Mosca e questo preservò in qualche modo la Siria, o almeno non la portata.